Abbiamo ascoltato tutti i dirigenti che hanno firmato le determini relative agli affidamenti e ai contributi dati a Opera Maestra e Stella Polare. Abbiamo sentito tutti i dirigenti, abbiamo cominciato a sentire anche i vari assessori che avevano firmato il delibero e che quindi in qualche modo erano coinvolti in questi affidamenti. Stiamo quindi sentendo la parte politica, perché noi siamo convinti di una cosa, io sono convinto assolutamente di una cosa, che questi dirigenti non è che, come dice l'ex sindaco Ricci, hanno fatto tutto il test a loro, che la responsabilità è sulla loro. Io non ci credo, non è possibile che questi dirigenti a un certo punto siano impazziti e abbiano firmato delle determine che chiaramente alcuni di loro, adesso due di loro, sono indagati addirittura. Quindi io non ci credo. Secondo me c'è stata una regia, c'è qualcuno che chiaramente ha dato questo input e chiaramente quello che sta cercando adesso è di fare anche la commissione, di riscontrare se c'è effettivamente questo collegamento tra una volontà politica nella regia e quello che poi è successo di fatto, che si è riscontrato poi negli affidamenti e nei contributi. Per questo noi abbiamo ascoltato, ripeto, ultimamente avevamo ascoltato Belloni, l'assessore Belloni, che all'epoca era l'assessore, la Franco Ellucci. Abbiamo chiesto la prossima riunione di mercoledì prossimo, abbiamo chiesto di ascoltare Massimiliano Amadori, perché Arcecci, che era stato per sette anni nella precedente registratura e capo di gabinetto, l'abbiamo già sentito. Abbiamo chiesto adesso di sentire Massimiliano Amadori, che dal 2022 è stato anche lui ex capo, era anche lui capo di gabinetto. Questo chiaramente per cercare di chiudere il cerchio. Poi sicuramente chiederemo anche di sentire quella persona che sappiamo benissimo è più tirata in causa anche da parte nostra, da parte dell'opposizione, che è il sindaco Ricci. Vedremo se, quando lo chiameremo, se verrà in commissione.